Il punto è questo, ognuno di noi parte da uno stato di consapevolezza del proprio problema ai denti differente. C'è chi prova semplicemente un disagio per la mancanza di qualche dente in bocca o avverti una certa instabilità della dentatura, qualche dente che si muove, le gengive che sanguina e ha paura che sia un problema più grosso, magari di piorrea, ma non avendo mai fatto una diagnosi non ha veramente idea che problema ha. C'è chi si trova senza più un dente in bocca, si è spaventato del preventivo magari fatto nel proprio paese dal proprio dentista per rimettere tutti i denti fissi. Oppure c'è chi invece sta già confrontando diversi preventivi magari dall'estero e gli manca però un'idea precisa di come affrontare questo tipo di viaggio. Chi desidera invece trovare in tempi rapidi sicurezza e risoluzione al proprio problema, perché ha già deciso. A seconda dei propri obiettivi ci sono diverse strade da percorrere. Proprio per questo oggi tocca a te. Ti chiedo di rispondere alle domande che troverai sotto a questo video. Dimmi con precisione come posso aiutarti. Io vedrò di farlo nel migliore dei modi. Guarda quindi qua sotto le domande che trovi occorreranno 20 secondi, nemmeno, però questo mi permetterà di aiutarti e inviarti i prossimi giorni un percorso dettagliato su come poter risolvere il tuo problema. Un saluto da Corrado.